Ciao a tutti ragazzi siamo ritornati in un nuovo video qui è ombra brada che vi parla e tipo dopo 2 barra 3 mesi dall'ultimo video che è uscito siamo ritornati in un nuovo video oggi vi do parlare di cose molto importanti per il canale la prima cosa è che se non mi avete visto caricare il video la cosa è che non si volevano caricare perché io ne avevo fatti tipo una decina li volevo caricare e non si caricavano e niente la seconda cosa è che iscrivetevi a questo canale che è il canale dove io e tutta la crew dei tvf faremo canzoni e la descrizione è in questo canale troverete la nostra musica cover di canzoni famose eccetera sta per uscire anche il nostro album di quattro canzoni e niente terza cosa è che la carriera della roma con la roma su fifa 20 non ci sarà più perché avevo detto di raggiungere i 10 like e non è che non la voglio fare più ma era una promessa se voi lasciavate 10 like io la continuavo se visto che non l'avete lasciati non l'ho più continuato a e terza cosa che fra pochi giorni e comincerò delle live su ps4 dove noi faremo i provini per i tvf il mio team e insomma il canale questo qua si chiama tvf music e iscrivetevi guardate se vi piace la cosa iscrizioni tvf ombra brada e niente so che questo video potrebbe essere anche corto rispetto a quelli che faccio di solito ma vi dovevo dire solo delle cose importanti un'altra cosa è che se vi avevo promesso che vi portavo il torneo di fortnite in live solo che non ve l'ho portato perché a causa di questo coronavirus e alcuni team non hanno voluto giocare e quindi niente non si è fatto il torneo che forse si svolgerà a metà agosto oppure a inizio agosto adesso ancora non ci sta però lo prometto che si ricomincerà e ve lo porterò e ultima cosa e mi scuso ancora per non aver portato più video ma non avuto il tempo e poi non mi andava la connessione per caricarli e mi è ritornata oggi quindi non vi chiedo di lasciare like perché questo qua un video che è durato pochissimo anzi viene chiedo di lasciarne meno due anzi forse quattro like lasciate e niente iscrivetevi al canale dall'ombra brada per oggi è tutto e ciao a tutti voi